Giulio, se tu vuoi studiare, ci vengo a parlare io con tua madre. Non ti dimenticare di me. Un applauso al genio indiscusso dell'algebra. Buongiorno, sono Giulio Pittarelli. Figlio adorato, non sai la gioia che ci hai dato. La laurea in matematica prima e ora in ingegneria. Madre cara, vogliate darmi sempre notizie di Anna. Le ho scritto più lettere, ma non ho mai ricevuto risposta. Ringraziamo il buon Dio ogni sera per il dono che ci hai fatto. In secondo luogo, questa piccola opposizione al fascismo è irriducibile. Amendola ha detto che vuole coinvolgere Benedetto Croce. Quando l'essi il suo elaborato, mi commossi. Perché? Perché è questo che fa il talento. Ti hai ragione tu. Avevamo solo due creature. Giulio, tutto quello che hai fatto. Dalle ricerche, gli scritti, le pubblicazioni, gli incarichi, i riconoscimenti. Il tuo coraggio.